Sono un controller Eden Viaggi. Il mio lavoro? Assicurarvi vacanze perfette. Il controller Eden Viaggi prova per voi le camere più confortevoli e belle. Controlla che la cucina soddisfi sempre i vostri gusti e sceglie chi sa prendersi cura dei più piccoli. Prenota in anticipo. Puoi garantirti i prezzi migliori. E solo con Eden Viaggi hai il salva vacanza incluso. Fino a 8 giorni dalla partenza sei libero di ripensarci perché riutilizzi la quota pagata per una nuova vacanza. Eden Viaggi. La vacanza è una cosa seria.